17 ecco già passato un anno e otto mesi da quando ho dato per l'ultima volta un'occhiata a questi appunti e soltanto oggi per alleviare la tristezza e l'angoscia mi sono messo a sfogliarli dunque sono restato al punto in cui stavo partendo per omburg dio mio come scrivevo a cuor leggero quelle ultime righe specialmente se faccio il confronto col momento attuale cioè a dire non che mi sentissi il cuore leggero ma quale fiducia non avevo in me stesso come mi apparivano incrollabili le mie speranze dubitavo forse anche minimamente di me stesso ed ecco che è trascorso appena un po più di un anno e mezzo e ora mi sembra di essere ridotto molto peggio di un mendicante anzi ma che mendicante che me ne importa della miseria ho semplicemente rovinato me stesso del resto non serve proprio a nulla paragonare la mia ad altre situazioni e neppure farsi delle lezioni di morale non ci può essere nulla di più sciocco della morale in un'epoca come questa o gente contenta e soddisfatta di se stessa con quale burbanzoso autocompiacimento questi chiacchieroni sono sempre pronti a spiattellare le loro sentenze se soltanto sapessero fino a che punto io sono cosciente di quanto sia abominevole la mia attuale situazione certo non oserebbero aprir bocca per farmi la lezione e del resto cosa mai potrebbero dirmi di nuovo che io non sappia già e il punto sta forse qui il punto sta nel fatto che basterebbe un solo giro della ruota della fortuna perché tutto cambiasse e questi stessi signori moralisti ne sono convinto verrebbero a farmi le loro congratulazioni battendomi affabilmente la mano sulla spalla e certo non mi volterebbero tutti quanti le spalle come fanno ora ma io ci sputo su tutti quanti loro cosa sono io adesso uno zero cosa potrei essere domani domani potrei risorgere dai morti e ricominciare nuovamente a vivere posso sempre ritrovare l'uomo che in me finché almeno non è perduto quella volta sono partito effettivamente per homburg ma poi sono tornato a roulettenburg sono stato a spa e perfino a baden dove mi sono recato come cameriere del consigliere inze un mascalzone e mio ex padrone sì ho fatto il lacchè per cinque mesi interi questo è stato subito dopo la mia uscita di prigione infatti sono stato anche in carcere a roulettenburg per un debito contratto qui una persona rimasta sconosciuta mi ha riscattato chi sarà stato mister astley paulina non so ma il fatto è che il debito è stato pagato si trattava di 200 talleri e io sono stato rimesso in libertà dove potevo andare così sono entrato al servizio di questo inze era un uomo giovane e sventato piuttosto pigro e io so scrivere e parlare in tre lingue da prima sono entrato al suo servizio come una specie di segretario per 30 fiorini al mese ma ho finito per fare semplicemente il lacchè lui non aveva più i mezzi di tenere un segretario e mi ha ridotto lo stipendio io non avevo dove andare e sono rimasto al suo servizio e così mi sono ridotto al rango di lacchè non mangiavo né bevevo a sufficienza al suo servizio ma in compenso in cinque mesi sono riuscito a mettere da parte 70 fiorini una bella sera a baden gli ho dichiarato che intendevo andarmene e quella sera stessa sono andato a giocare alla roulette come mi batteva il cuore no non mi facevano gola i soldi allora io desideravo soltanto che il giorno dopo tutti quegli inze tutti quei metri d'hotel tutte quelle maestose signore di baden non facessero altro che parlare di me raccontare la mia storia ammirarmi lodarmi e inchinarsi di fronte alla mia nuova vincita questi sono soltanto sogni e ambizioni infantili ma chissà forse avrei incontrato polina le avrei raccontato tutto e lei avrebbe visto che io ero superiori a tutti quegli assurdi colpi del destino o no non mi facevano gola i soldi sono convinto che li avrei scialacquati allo stesso modo con una qualche blanche e me ne sarei andato a parigi per tre settimane con una pariglia di cavalli acquistati per 16.000 franchi io so con sicurezza di non essere un avaro penso anzi di essere prodigo eppure tuttavia con quale tremito con che stretta al cuore ascolto sempre l'annuncio del croupier 31 rouge ampère e pass oppure 4 noir per e monk con quale avidità contemplo i tavoli di gioco su cui sono sparsi qua e là i luigi d'oro i federici i talleri oppure le colonnine di monete d'oro che abbattute dalla paletta del croupier si trasformano in mucchi ardenti come fuoco o le colonnine di monete d'argento alte anche più di mezzo metro che si elevano intorno alla ruota della roulette mi basta arrivare in vicinanza delle sale da gioco anche a due sale di distanza tanto da sentire il tintinio delle monete per essere quasi preso dalle convulsioni anche quella sera che ho portato i miei 70 fiorini sul tavolo da gioco è stata una serata memorabile ho cominciato puntando di nuovo sul pass dieci fiorini ho un certo pregiudizio favorevole per il pass ma ho perduto mi rimanevano così 60 fiorini in monete d'argento ci ho pensato un po su e ho deciso per lo zero ho cominciato così a puntare sullo zero cinque fiorini per volta e alla terza puntata lo zero è uscito c'è mancato poco che morissi dalla gioia quando mi hanno pagato centosettantacinque fiorini non ero certo così contento quando avevo vinto centomila fiorini allora ho subito puntato cento fiorini sul rouge e ho vinto poi tutti e duecento ancora sul rouge e ho vinto ancora poi tutti e quattrocento sul nero e ho vinto ancora tutti ottocento sul monk e ho vinto contando anche la vincita precedente avevo ora millesettecento fiorini e tutto questo in meno di cinque minuti sì in momenti come quelli ti dimentichi di tutti i tuoi precedenti insuccessi quel denaro io l'avevo vinto rischiando più che la vita avevo osato rischiare e ora ero stato riammesso nel consorzio umano ho preso una stanza mi ci sono chiuso dentro e fino alle tre del mattino sono stato a contare il denaro vinto al mattino mi sono svegliato che non ero più un lacchè ho deciso di partire quel giorno stesso per homburg a homburg non avevo fatto il lacchè né ero stato in carcere mezz'ora prima della partenza del treno sono passato al casino per fare non più di due puntate e ho perso mille cinquecento fiorini ciò nonostante mi sono ugualmente trasferito a homburg ed è già un mese che mi trovo qui naturalmente io vivo in preda a un'ansia continua gioco puntando poste piccolissime sono sempre in attesa di qualcosa faccio calcoli sono capace di starmene per giornate intere accanto al tavolo da gioco osservando il gioco mi capita di sognarmi la roulette perfino di notte ma nonostante ciò ho l'impressione di essere come intorpidito e di stare affondando nella melma lo deduco dall'impressione ricevuta dall'incontro con mister astley non ci vedevamo ormai da quell'epoca lontana e ci siamo incontrati per caso ecco come è andata me ne andavo per il parco pensando che adesso mi trovavo quasi senza denaro ma che comunque avevo ancora 50 fiorini e due giorni prima avevo saldato il conto all'albergo dove occupavo una cameretta mi restava dunque ancora la possibilità di giocare una sola volta alla roulette se avessi vinto anche una piccola somma avrei pur sempre avuto la possibilità di continuare il gioco se invece avessi perso avrei dovuto per forza impiegarmi di nuovo come la che nel caso che non avessi trovato dei russi che avessero bisogno di un precettore tutto preso da queste riflessioni facevo la mia passeggiata giornaliera attraverso il parco e il bosco fino al principato confinante certe volte la mia passeggiata durava fin verso le quattro e me ne tornavo a omburg stanco e affamato avevo appena lasciato il giardino per entrare nel parco quando un tratto ho scorto su una panchina mister astley lui mi ha visto per primo e mi amato mi sono seduto accanto a lui notando il suo atteggiamento grave e compassato ho trattenuto il mio entusiasmo già che mi aveva fatto un piacere straordinario vederlo e così lei è qui mi ha detto pensavo di incontrarla non perda tempo a raccontare io so già so tutto tutta la sua vita in questo anno e otto mesi mi è nota ecco dunque come lei tiene d'occhio i vecchi amici ho esclamato torna a suo onore il fatto che lei non dimentica un momento mi è venuta un'idea non sarà stato mica lei a riscattarmi dalla prigione di roulettenburg dove ero rinchiuso per un debito di 200 fiorini una persona rimasta sconosciuta ha pagato il mio debito e mi ha riscattato no no non sono stato io a farla uscire dalla prigione di roulettenburg dove lei si trovava per un debito di 200 fiorini ma ero a conoscenza del fatto che lei si trovava in prigione per un debito di 200 fiorini ciò significa che lei comunque sa chi mi ha riscattato o no non posso dire di sapere chi l'ha riscattata strano tra i russi di cui nessuno mi conosce e del resto probabilmente quelli non mi avrebbero neppure riscattato da noi in russia gli ortodossi riscattano gli ortodossi così pensavo che mi avesse riscattato qualche originale inglese per un ghiribizzo mister astley mi ascoltava con una certa aria meravigliata sembrava che si fosse aspettato di trovarmi avvilito e abbattuto comunque sono felice di vedere che lei ha saputo conservare tutta la sua indipendenza di spirito e addirittura la sua allegria ha osservato in tono un po agro ciò significa che lei in cuor suo si rode di rabbia perché non ho l'aspetto umiliato e avvilito ho detto io ridendo lì per lì mister astley non ha capito ma poi avendo compreso ha sorriso mi piacciono le sue osservazioni in queste sue parole io riconosco il mio amico d'un tempo intelligente entusiasta e allo stesso tempo anche cinico soltanto i russi sono capaci di riunire in sé tanti caratteri contraddittori tutti insieme è un fatto che all'uomo fa piacere vedersi davanti umiliato anche il suo migliore amico è proprio sull'umiliazione che si fonda in gran parte l'amicizia e questa è una vecchia verità ben nota a tutte le persone intelligenti ma in questo caso le assicuro che sono sinceramente contento di vedere che lei non si perde d'animo mi dica lei non ha mica l'intenzione di abbandonare il gioco che il diavolo se lo porti lo abbandonerò immediatamente soltanto vorrei soltanto lei adesso vorrebbe rifarsi vero proprio come pensavo non c'è bisogno che aggiunga altro lo so già lei l'ha detto senza pensarci e dunque ha detto la verità mi dica a parte il gioco lei non si interessa di nient'altro no di niente mister astley mi ha sottoposto a un vero e proprio esame io non sapevo nulla in tutto questo tempo non avevo quasi neppur guardato i giornali e non avevo letteralmente aperto un libro lei vegeta ha osservato allora mister astley lei non soltanto ha rinunciato ai suoi interessi personali e a quelli sociali non soltanto ai suoi doveri di uomo e di cittadino non soltanto ai suoi amici eppure ne aveva non soltanto ha rinunciato a qualsiasi fine nella vita eccettuato quello di vincere ma perfino ai suoi ricordi io ricordo di averla conosciuta in un momento forte e ardente della sua vita ma sono convinto che lei adesso ha dimenticato tutte le sue migliori inclinazioni di allora i suoi sogni di adesso anche quelli più urgenti ed essenziali ormai non vanno oltre al père e amper rouge e noir la dozzina di mezzo e così via ne sono assolutamente convinto basta mister astley la prego non mi faccia la predica ho esclamato io con dispetto e quasi con ira sappia invece che io non ho dimenticato proprio niente bensì soltanto per un certo periodo ho scacciato tutto questo dalla mia testa e cioè fino a quando non avrò radicalmente raddrizzato la mia situazione allora allora lei vedrà risorgerò dai morti lei sarà ancora qui tra dieci anni ha risposto lui le propongo di scommettere che tra dieci anni se sarò ancora vivo le ricorderò le mie parole su questa stessa panchina ora basta ho truncato io con impazienza e per dimostrarle che io non sono così facile a dimenticare il passato mi permetta di chiederle dov'è adesso miss polina se non è stato lei a riscattarmi sarà certamente stata lei fin da quell'epoca lontana non ho più avuto nessuna notizia di lei no no non credo che sia stata lei a riscattarla attualmente essa si trova in svizzera e lei mi farà un grandissimo favore se la smetterà di interrogarmi su miss polina dichiarò mister astley in tonno reciso e perfino risentito ciò vuol dire che lei stesso ne è rimasto gravemente ferito ho esclamato io mettendomi involontariamente a ridere miss polina è l'essere migliore tra tutti gli esseri più degni di rispetto su questa terra ma le ripeto che lei mi farà un grande piacere se la smetterà di chiedermi sue notizie lei non l'ha mai conosciuta e l'udire il suo nome pronunciato dalle sue labbra costituisce un'offesa al mio senso morale ah è così del resto lei ha torto di che cos'altro potrei parlare con lei giudichi lei stesso appunto in questo consistono tutti i nostri ricordi comuni del resto non deve inquietarsi io non voglio sapere nulla delle vostre faccende intime segrete mi interessa soltanto per così dire la situazione esteriore di miss polina la condizione meramente esteriore in cui essa attualmente si trova è cosa che può dirsi in due parole sia pure purché con queste due parole si chiuda definitivamente il discorso miss polina è stata a lungo malata è malata ancora adesso per qualche tempo ha vissuto con mia madre e mia sorella nell'inghilterra del nord un anno e mezzo fa sua nonna si ricorda quella vecchia completamente pazza è morta lasciando a miss polina personalmente un lascito di 7.000 sterline attualmente miss polina è in viaggio insieme alla famiglia di mia sorella sposata il suo fratello piccolo e la sorella hanno ricevuto la sicurezza materiale dal testamento della nonna e ora studiano a londra il generale il patrigno di miss polina è morto d'un colpo un mese fa a parigi mademoiselle blanche si è comportata bene con lui ma comunque è riuscita a far mettere a proprio nome tutto quello che la nonna gli aveva lasciato e questo è tutto se non mi sbaglio e de griot non è per caso anche lui in viaggio in svizzera no de griot non è in viaggio in svizzera e non so dove si trovi inoltre una volta per tutte la avverto di evitare certe allusioni e certi ignobili accostamenti altrimenti le assicuro che avrà a che fare con me come nonostante i nostri antichi rapporti d'amicizia già nonostante i nostri antichi rapporti di amicizia già nonostante i nostri antichi rapporti di amicizia le chiedo mille volte perdono mister astley ma tuttavia mi permetta di osservare che in questo non c'è nulla di ignobile né di offensivo infatti io non accuso di nulla miss polina del resto un francese e una signorina russa parlando in generale costituiscono un accostamento che certo né io né lei mister astley siamo in grado di risolvere né di comprendere fino in fondo se lei si asterrà dal fare il nome di de griot insieme all'altro nome io vorrei pregarla di spiegarmi cosa intende con l'espressione un francese e una signorina russa che razza di accostamento è questo è perché deve trattarsi proprio di un francese di una signorina russa vede anche lei ci sta prendendo interesse ma si tratta di un argomento vasto mister astley e ci sono molte cose che bisogna conoscere già da prima del resto si tratta di una questione seria per quanto futile possa apparire tutto questo a prima vista un francese mister astley è una bella forma portata a compimento lei come inglese può non trovarsi d'accordo anch'io come russo non sono d'accordo ma forse solo per invidia ma il fatto è che le nostre signorine sono di diversa opinione lei potrà trovare rasin contorto artificioso troppo aggraziato e magari non si metterà neppure a leggerlo anch'io lo trovo contorto artificioso troppo aggraziato e da un certo punto di vista perfino ridicolo ma è stupendo mister astley e soprattutto è un grande poeta e noi due lo si voglia o no la forma nazionale del francese e cioè del parigino ha cominciato a comporsi in una bella forma quando noi eravamo ancora degli orsi la rivoluzione è stata l'erede della nobiltà e adesso il francesuccio più volgare può essere dotato di maniere di un modo di fare di espressioni e perfino di pensieri di una forma perfettamente bella anche se ha la bellezza di tale forma egli non contribuisce personalmente in nessun modo né con l'anima né con il cuore è una cosa che egli ha ricevuto per diritto d'eredità di per se stessi i francesi possono essere più vuoti e più abbietti del più vuoto e del più abbietto degli uomini ma io le dico mio caro mister astley che non esiste al mondo un essere più fiducioso e più aperto di una buona intelligente e non troppo artefatta signorina russa e un de griot presentandosi in una veste qualsiasi presentandosi mascherato può conquistare il suo cuore con straordinaria facilità infatti egli possiede una bella forma mister astley e la nostra signorina prende quella forma per la sua vera anima per la naturale forma del suo cuore e della sua anima e non per un vestito che egli ha ricevuto per eredità con suo grande disappunto devo confessarle che gli inglesi sono per lo più goffi e ineleganti e i russi sono molto sensibili alla bellezza e hanno molto fiuto nel riconoscerla ma per scoprire un'autentica bellezza dell'anima e una vera originalità della persona per far questo è necessaria un'indipendenza e libertà di giudizio incomparabilmente maggiore di quella che si trova nelle nostre donne e tanto più nelle nostre signorine e in ogni caso anche molta più esperienza a miss polina mi scusi ma il nome mi è sfuggito senza vedermene è stato necessario un periodo di tempo molto molto lungo per decidersi a preferire lei a quel mascalzone di de griot lei era capace di apprezzarla di diventare sua amica di aprirle tutto il suo cuore ma in quel cuore continuava pur sempre a regnare quell'odioso mascalzone il disgustoso e meschino usuraio de griot tutto ciò rimaneva radicato in lei anche soltanto per così dire per testardaggine e per amor proprio perché quello stesso de griot le è apparso un tempo circondato dall'aureola di un elegante marchese di un liberale deluso di uno che si era rovinato come se fosse vero per aiutare la sua famiglia e quello sventato del generale tutte queste marachelle sono venute alla luce solo più tardi ma a lei non importa che siano scoperte datele comunque il de griot di prima ecco di cosa lei ha bisogno e quanto più ora odia l'attuale de griot tanto più anela a quello di un tempo anche se quello è esistito soltanto nella sua immaginazione lei è un fabbricante di zucchero mister astley se sono un membro della compagnia proprietaria del noto zuccherificio love lane company ecco lo vede mister astley da una parte un fabbricante di zucchero e dall'altra la pollo del belvedere tutto ciò in qualche modo non lega insieme e io non sono neppure un fabbricante di zucchero ma semplicemente un meschino giocatore di roulette e ho fatto perfino il la che cosa di cui miss polina è probabilmente già stata informata dal momento che a quanto sembra dispone di una buona polizia lei è inasprito e solo per questo dice tutte queste sciocchezze ha risposto freddamente mister astley dopo averci pensato un po' su per giunta non c'è originalità nelle sue parole sono perfettamente d'accordo e proprio qui sta il terribile mio nobile amico nel fatto che tutte queste mie accuse per quanto invecchiate volgarie degne tutt'al più di un votviglie sono comunque la pura verità resta pur sempre che ne io e ne lei abbiamo ottenuto nulla tutto ciò non è che una disgustosa sciocchezza perché perché ebbene lo sappia anche lei ha esclamato mister astley con voce che gli tremava gli occhi lampeggianti sappia anche lei uomo ingrato e indegno meschino e felice che io sono venuto a omburg espressamente su incarico di miss polina per vedere proprio lei per parlare a lungo e a cuore aperto e poi per riferire a miss polina tutti i suoi sentimenti i suoi pensieri le sue speranze e anche i suoi ricordi possibile possibile ho gridato mentre le lacrime mi sgurgavano a torrenti dagli occhi senza che riuscissi a trattenerle cosa che se non sbaglio mi capitava per la prima volta nella vita sì uomo infelice lei la amava e io posso rivelarglielo perché lei ormai è un uomo perduto non solo ma se anche le dicessi che lei la ama ancora ebbene lei resterebbe qui ugualmente sì lei ha distrutto se stesso sì lei aveva certe qualità uno spirito vivo e una certa intelligenza lei avrebbe potuto anche essere utile alla sua patria che ha tanto bisogno di uomini ma lei invece rimarrà qui e la sua vita è ormai finita io lo la incolpo secondo me tutti i russi sono così o almeno tendono a esserlo se non è la roulette ebbene sarà qualcosa dello stesso genere le eccezioni sono troppo poche non è lei il primo a non capire che cos'è il lavoro non parlo qui del vostro popolo la roulette è un gioco russo per eccellenza fino a ora lei è rimasto onesto e ha preferito fare il lacchè piuttosto che rubare ma per me è terribile pensare cosa potrà accadere in futuro basta così addio lei naturalmente avrà bisogno di soldi eccole dieci luigi d'oro di più non le darò perché lei li perderebbe ugualmente al gioco li prenda e addio su li prenda no mister astley dopo tutto ciò che lei ora mi ha detto li prenda ha gridato mister astley io sono convinto che lei ha ancora un animo nobile e glieli offro come un amico può offrirgli a un vero amico se io potessi credere che lei in questo stesso momento abbandonerà la roulette lascerà omburg e farà ritorno al suo paese sarei disposto a darle immediatamente mille sterline per iniziare una nuova carriera ma io non le do mille sterline ma soltanto dieci luigi perché in questo momento dieci luigi o mille sterline sono per lei esattamente la stessa cosa li perderebbe tutti egualmente li prenda e addio li prenderò a patto che lei mi permetta di abbracciarla al momento di separarci questo con piacere ci siamo abbracciati con tutto il cuore e mister astley se n'è andato no lui non ha ragione se io sono stato troppo reciso e sciocco sul conto di polina di degrio lui d'altra parte è stato troppo reciso e sbrigativo sul conto di noi russi naturalmente non parlo di me comunque comunque ora non è questo il punto tutte queste sono soltanto parole parole e parole e ora ci vogliono i fatti ora l'essenziale è partire per la svizzera domani stesso se fosse possibile partire domani stesso rinascere a una nuova vita resuscitare bisogna fargli vedere che anche polina veda che posso ancora essere un uomo basta soltanto del resto ora è tardi ma domani sento dentro di me un presentimento che non può non realizzarsi ora ho 15 luigi e ho cominciato con 15 fiorini se solo cominciassi con cautela ma possibile possibile che io sia ancora come un bambino possibile che non capisca che sono un uomo completamente perduto ma perché poi non potrei risorgere sì basta essere paziente e calcolatore almeno una volta nella vita ed ecco tutto basta almeno una volta non perdere il dominio di sé e in un'ora sola posso cambiare tutto il mio destino l'importante è il dominio di sé basta solo che mi ricordi che qualcosa di simile mi è successo sette mesi fa a roulettenburg prima della mia definitiva perdita a quello è stato un bell'esempio di risolutezza quella volta avevo perduto tutto tutto sono uscito dal casino e a un tratto mi accorgo che nel taschino del panciotto c'è ancora un fiorino dimenticato dunque ci sarà ancora da cenare ho pensato fra me ma poi dopo aver fatto un centinaio di passi ci ho ripensato e sono tornato indietro ho puntato quel fiorino sul monk quella volta ero fissato sul monk e davvero devo dire che c'è qualcosa di particolare nella sensazione che provi quando solo in terra straniera lontano dalla patria e dagli amici senza neanche sapere che mangerai domani punti l'ultimo fiorino proprio l'ultimo ho vinto e 20 minuti dopo uscivo dal casino con 170 fiorini in tasca è un fatto ecco cosa può significare certe volte l'ultimo fiorino e cosa sarebbe successo se